La problematica della riproduzione è una problematica seria perché deve sempre comunque considerare quelle che sono le interferenze possibili sull'asse riproduttivo epotalamipofisi gonadi, in questo caso l'ovaio, degli altri assi endocrini che sono quello della tiroide, quello della prolattina e quello della surrene. Non si deve pensare che se la riproduzione non funziona in maniera adeguata è solamente l'asse riproduttivo il vero problema o la fisiopatologia dell'asse riproduttivo è il problema della mancata fertilità. Dobbiamo sempre in maniera attenta valutare e considerare che anche cambiamenti della prolattina, cambiamenti della funzione dell'asse della surrene e al pari dell'asse funzionale della tiroide possano essere coinvolti. Non raramente anche più di questi perché se si pensa al disagio indotto dall'eccesso di funzione tiroidea o dal difetto della funzione tiroidea, quindi ipertiroidismo e ipotiroidismo, queste possono condizionare in maniera molto precisa e molto peculiare la capacità riproduttiva. Cambiamenti del metabolismo, della clearance degli ormoni della riproduzione, quindi mi riferisco alle proteine vettrici degli steroidi sessuali, a quello che è la normale clearance metabolica delle gonadotropine, può cambiare con le alterazioni della funzione tiroidea e determinare un cambiamento della capacità riproduttiva. Cambiando la funzione della tiroidea può cambiare la funzione della prolattina, l'ipotiroidismo si accompagna ad eccesso di prolattina, patologie tumorali benigne per fortuna dell'ipofisi con gli adenomi ipofisari prolattino-socernenti possono essere alla base di un disturbo di iperprolattinemia. In generale sono situazioni relativamente frequenti ma possono presentarsi non raramente quando si cerca in maniera ostinata la gravidanza, anche la surrene può essere coinvolta in questo. La surrene nelle sue forme dell'ipersurrenalismo, legate sostanzialmente al difetto di enzimi specifici dell'area della surrene, può essere alla base della infertilità, sostenuta da un eccesso di ormoni maschili, di androgeni, prodotti per il fatto che, per la mancanza di un enzima specifico della via di sintesi che porta al cortisolo, si viene a determinare a monte l'aumento ovviamente di sostanze, in questo caso steroidi sessuali tipo maschili, che sono precursori del cortisolo. Tutto questo per essere in una rapida carrellata e esaustivi per dire che la mancata fertilità può dipendere da varie combinazioni, anche di disagi endocrini non propri dell'asse riproduttivo, quindi controllare sempre l'asse funzionale della tiroide, controllare sempre l'asse funzionale della surrene, controllare sempre i livelli della prolattina. Un buon controllo endocrino di base può essere sufficiente per annullare l'ipotesi di avere altre casualità nella infertilità.